Allora mister, è arrivata purtroppo questa sconfitta con la Voltrese, il Cireale ha perso, avete perso comunque contro un'ottima squadra, quale le sue impressioni dopo questa partita? Che impressioni della mia maniera, abbiamo preso il secondo gol, su rimessa dal fondo abbiamo preso contro il piede e gol. Ti fotografa questo la nostra partita, il nostro momento no a livello psicologico soprattutto. Purtroppo è così, un momento così, pensavamo di aver fatto un buon lavoro durante le vacanze, invece evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa. Avete perso contro un'ottima squadra? Contro un'ottima squadra assolutamente, però ce la siamo giocata, abbiamo preso il primo gol su una respinta nostra, una calciata da 25 metri, la palla rimbalzata è andata dentro, il portiere non l'ha vista, il secondo gol abbiamo preso contro il piede e su rimessa dal fondo, questi due episodi fotografano il nostro momento. Purtroppo è così, non dobbiamo smettere di lavorare e dobbiamo continuare a fare punti, perché la classifica non è poi così bella, ora non so cosa hanno fatto le altre, ma abbiamo vinto un punti, non siamo tranquilli e dobbiamo continuare a lavorare e cercare di ritrovare un po' quell'atteggiamento che ci ha contraddistinto nella fine del cerone di andata. Bene, grazie mister e buona fortuna per il prossimo del campionato. Grazie a voi, bocca al lupo, ciao.